Attimi di terrore e di grande pericolo anche per alcuni biellesi che erano a bordo della costa Concordia, naufragata sugli scogli dell'isola del Giglio. Sono Luigi di Biceglie, ero a bordo della costa Concordia, abbiamo avuto una brutta esperienza, io ero con la mia famiglia. Niente, è successo che verso le 9.15, 9.20 abbiamo sentito un raschiare della nave, ci siamo presi tutti paura perché comunque volava di tutto e siamo saliti subito sopra. Il personale ci diceva di stare tranquilli che c'era soltanto un guasto elettrico ma noi per fortuna non ci abbiamo molto creduto, siamo andati a recuperare i nostri giubbottini salvagente. Siamo andati sul ponte 4 dove poi dopo un'ora buona hanno finalmente dato il via al salvataggio della gente. Siamo scesi con le scialuppe dalla nave, siamo scesi in mare, solo che quella lì è stata la situazione più drammatica perché comunque tutto l'accalcarsi della gente perché ovviamente le scialuppe erano metà, si poteva usare metà delle scialuppe a disposizione perché l'altra metà non si poteva ovviamente usare. Quindi tutti quanti volevano salire sulle scialuppe, abbiamo rischiato di fare una frittata perché tutti volevano entrare. Noi eravamo lì impauriti perché comunque non sapevamo cosa sarebbe successo. Tra l'altro non abbiamo visto un ufficiale, nessuno che ci venisse ad aiutare, c'erano soltanto i cuochi e la gente che lavorava dentro questa nave che sono stati poi loro i veri autori del salvataggio. Perché comunque la nave era inclinata, quindi anche chi era responsabile di quello che doveva tirare fuori praticamente la scialuppa col ponte l'ha tirata fuori un po' poi si è preso paura, è scappato. Quindi noi siamo rimasti a Penzoloni con sta scialuppa e siamo scesi raschiando tutta la nave. Sono Stefano Bortignon, anche io ero a bordo della nave Costa Concordia. Abbiamo vissuto un'esperienza incredibile, comunque possiamo raccontarla. E volevo ringraziare tutti i soccorsi, tutte le persone che nell'isola ci hanno dato ospitalità, ci hanno aperto le loro case di vacanza, eravamo in 4.000 su un'isola solitamente abitata da 700 persone e hanno fatto il possibile per darci una mano, per consolarci, per aiutarci in quel momento che è stato veramente critico. Emergono responsabilità precise riguardo al repentino abbandono della nave del capitano della Costa Concordia. Beh, da quanto hanno detto le televisioni, da quanto è stato rilevato, chiaramente la colpa è una colpa umana. Quindi il capitano sicuramente avrà le sue colpe, anche perché io mi ricordo di essere sceso sulla terraferma alle 23.41, di questo ne sono sicuro perché ho fatto la prima telefonata a casa. Dalla televisione hanno detto che il capitano è sbarcato a mezzanotte, praticamente io ero uno tra i primi migliaia di persone che ero sull'isola. Sulla nave ce n'erano ancora 3.000, quindi il capitano è sceso praticamente con noi. Io avevo tanta paura, ma secondo me ce l'ha avuta tanta anche lui per scendere così in fretta.